odio i forze odio i però odio l'indecisione odio l'ambiguità il traccheggiamento e dovresti odiare anche tu queste cose soprattutto quando riguardano te stesso o te stessa se tu vuoi una cosa non esiste l'accontentarsi ti puoi accontentare finché non trovi un modo attivamente però per raggiungere quel qualcosa non è che ti metti a piangere ti butti da un ponte però questa cosa del non decidere le cose non prendere una decisione sono carne o sono pesce voglio carne o voglio pesce ti rende una persona inesistente perché se tu puoi essere o carne o pesce in un modo o nell'altro e non decidi cosa vuoi essere se non stai decidendo quindi non sai niente perché noi siamo la nostra mente la nostra consapevolezza qualcuno la chiama anima chiamatela come vi pare ok la vostra identità siete vivi siete voi e non siete qualcun altro se voi non siete ciò che volete essere allora siete ciò che non siete filosofia parte non siete niente io voglio essere nero ma sono turchino sono rossetto rossettino eccetera io non sono me stesso e quindi se io non sono me stesso non esisto è come se non esistessi quindi quando volete carne o volete pesce o volete le patate quel che vi pare dovete dire intanto so e prendo atto che voglio questa cosa qui indipendentemente se ce l'ho se riesco ad ottenerla o meno però il primo punto è sapere io voglio questa cosa e me la sbatto davanti alla cazzo di faccia ogni secondo per ricordarmi che io voglio questa cosa qui ok poi come raggiungerla è un altro discorso è il passo successivo ma se tu non hai nella tua mente il cosa vuoi essere fare avere raggiungere eccetera non lo puoi raggiungere perché perché come fai ad andare da roma a milano se non hai deciso di andare da roma a milano a vai totalmente a cazzo ok quindi devi decidere quello che vuoi devi essere consapevole e rischiare perché potresti fallire almeno momentaneamente eccetera è per questo che molti non decidono io voglio il cazzo di pesce voglio la cazzo di carne voglio la cazzo di patata o quello che è ok se tu dici io voglio la cosa x e poi invece fai tutte le lettere dell'alfabeto anche quelli astrusi perché hai paura di non riuscire hai paura di doverti impegnare hai paura di quello e ma poi cosa dicono gli altri e ma però e sì e qua e fa tutte le cazzo di filastrocche tu non raggiungerai mai quello che vuoi veramente non sarai mai come vuoi essere veramente e poi venite a dire ah ma l'altra persona fa sempre schifo quando si avvicina a me non ottengo quello che voglio le persone che voglio io non mi si inculano e ci credo se neanche tu ti prendi cura e rispetti te stesso o te stessa e quindi interesse a te stesso te stessa ma come cazzo fai ad interessare a qualcun altro ci mancherebbe altro ok quindi se io voglio essere carne o pesce o patata mettiamo voglio essere carne devo ricordarmi e onorare questa cosa voglio essere carne e quindi non me ne frega un cazzo di cosa devo fare quando come perché in che modo eccetera ma io diventerò carne e ci lavoro costantemente ci lavoro sempre farò di tutto ricerco studio chiedo consigli chiedo consulenze leggo libri mi informo guardo dove mi pare in questo e nell'altro mondo si fa per dire e poi ovviamente mi impegno adesso lo so che sembra impegnati impegnati tuo nonno che ti diceva in cambio delle caramelle alcune alcune dritte di vita sì tu devi fare delle cose perché questa è una cosa cazzuta io voglio questa roba qui ne prendo atto e poi sono io il responsabile di raggiungerla perché chi cazzo è che raggiunge per te le cose che vuoi tu chi può diventare per te il te stesso te stessa che vuoi diventare cioè fammi capire cazzo chi può darti le azioni fare per te le azioni per conquistare qualcuno un lavoro dei soldi o risolvere o migliorare delle cose nella tua vita tutto quel che ti pare non esiste quindi devi azionarti attivarti e poi devi fregartene sbattertene altamente il cazzo alla grande chi se ne frega vaffanculo totale scusate le parolacce se non riesci subito se ci sono problemi se ci sono nemici se ci sono confronti con situazioni negative se dei periodi sei giù sei su sei questo sei quello benvenuti nella vita è questa la vita ok quindi per questo dobbiamo diventare strong o chiamatelo come vi pare non dovete usare le mie parole per forza se vi dico questa cosa importante sono proprio le difficoltà raggiungere i nostri sogni obiettivi desideri che li rendono tali perché immagina ho sete voglio bere pam arriva mago merlino mi toglie la sete come se avessi bevuto ho fame voglio un panino boom già appagata questa cosa mi piace quella ragazza boom già appagata mi piace quel ragazzo boom appagato vorrei volare boom appagato tutto appagato all'istante io non ho più sogni non ho più desideri e non mi godo più le cose la figata che anche la cosa difficile è il ciclo desidero qualcosa mi manca se no non lo potrei desiderare faccio delle azioni per raggiungere quel qualcosa e poi me la godo e poi voglio qualcosa in più di diverso faccio delle cose lo raggiungo e godo ancora più è tutto un circolo è questa la cosa figa non potrai mai apprezzare un cibo che ti piace se prima non ti manca sviluppando in te della fame quindi smettiamo anche di vedere le esigenze anche alcuni problemi alcune cose ovviamente risolvibili per carità come dei nemici come dei muri come a che palle non ho questo non ho quello è difficile perché è questo il gioco della vita inoltre aggiungo se le cose sono facili per tutti le possono ottenere tutti e non hanno più valore come dico sempre l'aria l'acqua la sopravvivenza che non stai mai troppo al caldo al freddo che nessuno ti ammazza per strada sono cose che tu ti svegli la mattina e dici che figata che ci sono no e sono le cose più importanti della vita perché non ti svegli o non pensi ogni secondo che figata queste cose di base che ho perché non le apprezzi dato che le dai per scontate perché siamo nel mondo democratico occidentale con varie virgolette eccetera però fondamentalmente viviamo tendenzialmente in media nel benessere e quindi almeno queste cose che ho detto non le viviamo come problema sono già pagate da mago merlino o chi per lui ok ci sono paesi del terzo mondo in cui anche soltanto bere è un grande sogno o non morire nei primi tre mesi di vita ok quindi questo ti fa capire che se non ci sono delle difficoltà se non ci sono degli attriti problemi nemici tutte queste cose qua nemmeno te le godi le cose quindi ricorda questa roba qua le difficoltà i problemi tutto ciò che è risolvibile in qualche modo lasciamo stare malattie terminali eccetera per carità è ciò che fa parte del processo che ti porta verso il raggiungimento e quindi al piacere la felicità la libertà quindi goditi il fatto che puoi raggiungere delle cose e goditi del fatto e godi del fatto che le difficoltà fanno la differenza tra te che magari sei potente strong eccetera e le raggiungerai e gli altri che non sono diventati o non si sono sbattuti come te eventualmente per raggiungerle e quindi è questo che fa la differenza se siamo tutti multimiliardari nessuno è multimiliardario ok quindi ricordati queste cose tu devi decidere e una volta che hai deciso o di qua o di là devi andare a spaccare il culo al mondo no come come si dice nelle poesie ok e non devi dire ma forse questo forse quello perché scegli la strada più facile devi scegliere la strada che tu vuoi le difficoltà le abbiamo già revisionate riprogrammate mentalmente come ora si dice e quindi non c'è alcun cazzo di problema perché il problema fa parte del gioco quando giochi una partita di calcio o di pallavolo o quel che ti pare con qualcuno non è che dici cazzo che palle ci sono i nemici perché non esiste gioco senza nemici o senza una difficoltà tu giocheresti mai ad un gioco che appena inizia hai già vinto tutta la partita tutto il gioco no nemmeno lo compreresti non lo pagheresti non andresti a giocare una partita contro delle persone sordomute o disabili perché vinceresti troppo facilmente rispetto per tutti ovviamente e quindi non ci troveresti gusto e così nella vita più è grande il problema più è grande il sogno che c'è dietro per cui tu vivi quel problema e quindi felicitatene questo ho detto anche bene questa parola difficile ok perché poi vuol dire che la ricompensa sarà grande però devi essere o carne o pesce se decidire di essere se decidi di essere carne si carne e diventa fa di tutto per diventare quella carne che vuoi essere se non ti interessa essere carne vuoi essere patata pesce o quel che ti pare allora prendine atto io credevo di avere questo desiderio in realtà non lo ho questo desiderio e quindi fanculo mi dedico al mio vero desiderio perché a volte noi vogliamo la ricchezza la bellezza la fama quello l'altro sopra sotto ma non siamo disposti a fare niente o abbastanza per raggiungerlo cosa stai facendo veramente chieditelo e quindi vuol dire che magari questa cosa non la vogliamo veramente e quindi se non la vuoi veramente fanculo pensa a qualcos'altro ma non illuderti non auto diciamo non porti automaticamente a te stesso delle bugie se tu vuoi una cosa sei disposto a fare delle cose necessarie per raggiungerla altrimenti vuol dire che non la vuoi e se non la vuoi perché cazzo ci pensi ti fai dei problemi ok quindi devi saper dire voglio questo e mi metto giù per raggiungerlo e anche saper dire ma se non lo voglio perché mi danno la cazzo di anima penserò a qualcos'altro problema risolto il problema in realtà è quando tu dici ama tanto non fai delle cose come se non le volessi in verità le vuoi a me da fastidio quando una persona viene lì mi chiede una cosa però non sa se la vuole così cosa come con i miei corsi io so che molti di voi vogliono sedurre veramente o che vogliono diventare veramente potenti perché cazzo non hanno preso i miei corsi lo so che c'è un conflitto di interesse ma l'esempio è calzante se vuoi diventare strong vuoi sedurre in modo strong con tutto quello che io posso fare per te vai nel mio sito e compra i miei corsi se non riesci a comprarli ora fai un piano per ottenere quei soldi lo so che costano le cose ma costa qualsiasi stronzata che esiste tranne la merda e a volte anche quella costa perché concime quindi vuoi imparare a sedurre vuoi diventare strong o qualsiasi altro obiettivo agisci e smetti di raccontarti cazzate perché dà fastidio a te o almeno dovrebbe darlo e dà fastidio anche a me quanti di voi vogliono diventare cose che potrebbero diventare grazie ai miei corsi e non agiscono perché non possono economicamente va bene però poi non agiscono nemmeno per avere quei soldi sì ci sono tante altre spese ma quante cose secondarie o inutili hai nella tua vita e le hai pagate più di quanto costano i miei corsi quindi con questa metafora che poi è anche calzante in descrizione nel primo commento trovi tutti i link alle pagine in cui ti spiego quali corsi ti posso offrire eccetera quindi che sia questo l'obiettivo o altri obiettivi decidi cosa vuoi essere e anche cosa non vuoi essere smetti di frignare piagnocolare lamentarti ma quello sopra e sotto e di vedere tutto nero tutte le cazzo di cose nere datti da fare muoviti esci di casa e spacca i culi sei sempre strong ciao da lexonofri ci vediamo al prossimo cazzo di video